Da 7 gli istituti comprensivi della città passeranno a 5. È stato infatti approvato il dimensionamento scolastico cittadino che tanto ha fatto discutere in questi mesi e che ha visto oltre ai dirigenti e agli insegnanti anche i genitori sul piede di guerra preoccupati per la continuità didattica. Si tratta di uno degli ultimi atti della giunta oscente che ha anche predisposto qualche variante al piano di dimensionamento scolastico che entrerà in vigore a partire dall'anno scolastico 2017-2018. La scuola Gianni Rodari, dopo le battaglie della dirigente scolastica Francesca Dasero e la petizione dei genitori, resterà accorpata all'istituto comprensivo Don Milani. Secondo la nuova geografia delle scuole, dunque l'istituto comprensivo Leonardo Sciaccia comprenderà le scuole dell'infanzia Sciaccia e Pantano, l'elementare Sciaccia e la scuola media Giovanni Verga per un complessivo di 1.391 studenti. L'istituto comprensivo Antonino Caponnetto con 1.453 alunni complessivi invece comprenderà le scuole dell'infanzia Petronilla, Firriore Almaestranza, Urracasa e Leone XIII, la scuola elementare Caponnetto, Abbate e la scuola media Pietroleone, quest'ultimo appartenente all'omonimo istituto comprensivo da quest'anno in regenza visto che non ha raggiunto il limite di 600 alunni. L'istituto comprensivo Don Milani, oltre a mantenere la scuola elementare Gianni Rodari, comprenderà la scuola media Don Milani, le scuole dell'infanzia Aldomoro, Viatturati, Don Milani e la scuola media Filippo Cordova per un complessivo di 1.255 alunni. L'istituto comprensivo Lombardo Radice invece sarà composto dalle scuole dell'infanzia Martiri Duncheria, Lombardo Radice, Ex Omni e Faletra, dalla scuola elementare Radice e dalla scuola media Russo di San Secondo per un complessivo di 1.262 alunni. L'istituto Vittorio Veneto, che in questi anni ha visto diminuire il numero degli alunni e dunque rischiava di perdere la personalità giuridica, sarà invece formato dalla scuola dell'infanzia San Domenico, dalla scuola elementare media Vittorio Veneto, dalla scuola dell'infanzia elementare media San Giusto, dalla scuola dell'infanzia Andersen e Calafato, dalla scuola dell'infanzia elementare media di Santa Barbara e di Santa Flavia, dalla scuola media Santa Lucia e dalla Capuana, ospitata al secondo piano della scuola Santa Lucia per un complessivo di 1.141 alunni. Il piano di dimensionamento, già prodato al tavolo provinciale del Libro Consorzio dei Comuni, nel mese di luglio, è stato trasmesso all'ufficio scolastico provinciale, che dovrà a sua volta inviarlo all'assessorato regionale alla scuola per l'approvazione definitiva.